Antonio Cassano, eccolo là, buongiorno, come va? Baldi, mi fai una cortesia? Sì, dimmi, sono Antonio Cassano Mi fai una cortesia, parli tu con Claudio Lippi? No, che Claudio Lippi? Hai letto anche tu questa accusa? Quale, scusa, Antonio? Ho letto la lista dei nominati per la partita con la fiabilandia Ma che fiabilandia? Con la Finlandia, volevi dire? Sì, ho visto che non sei stato convocato, è vero? Eh, allora, legci Allora, leggo dunque, Pellizzoli Lo conosco Roma È la mia squadra? No, vabbè, è un'altra Bonera Ma chi è un nome? Roma No, vabbè, Barzagli Mai sentito? Mai sentito, vabbè, gioca nel Palermo Chiellini Eh, Chiellini No, Chiellini, Chiellini Materazzi Do gioca questo? Nell'Inter Vincere, aspetta Inter, Inter Nord Inter E quella nell'azzurra? Sì, quella nell'azzurra Ah, ho capito, vabbè Parisi Chi è? Eh, che lo sapevo Nel Messina Ma stai parlando di nazionale? Sì Nel Messina Poi Zaccardo Barone Ah, schei Ehi Zaccardo È una parolaccia? No, non è una parolaccia Uè, sei uno Zaccardo? No, ma non è così Ah, ma mi sembra una parola Sempre Palermo Ma chi sono questi qua? Eh, vabbè Barone Eh Poi Blasi Eh, mai sentito Juventus Insomma, sei No, niente da fare Poi De Rossi Lo conosco Ecco, meno male Diana Sono i sigaretta No, i sigaretta Dai Ma c'è, stacco Ma questo è mai una zio nulla Questa Aspetta, ancora ora è finita Eh Esposito Questo dovresti Esposito? Deve essere di Bolzano Questo Ma, sì, esatto Eh Mauri Ci manca un po'? Ci manca un pezzo di parola? O si chiama Mauri? O è Maurizio che gli hanno lavato? No, no, è Mauri Mai sentito Caracciolo Mi fa ridere solo il cognome Di questo qua Ma io non lo... Poi Miccoli E uno dei sette nani, per favore E uno dei... Eh, Eolo Poi Mammolo Truccolo Ficcolo Gnoccolo Spaccolo E Miccoli E questo, eh Poi Montella Montella lo conosco E Tony Il cantante? Ma che è il cantante? E il centravanti del Palermo Dai, Tony Vabbè Gli unici che conosco Sono De Rossi E Mondello Lucia Mondello De Promesse C'è pure Pellizzoli della Roma Pellizzoli? Sì Il portiere Eh no, non lo conosco Quello gioca in bordo È lontano Io giocare in attacco E certo E quando mai lo vedo Quello là E certo Cioè Io non riesco a capire Questa cosa qua Ma insomma Vabbè, comunque tu Ti sei allenato lo stesso, sì? Sì Ieri sono andato in gamba Ho fatto un po' di panghiera Ah, di panchina Sì, mi sono andato a fare un giro di cambo Sì Ma direttamente con i mocassini Ma non il scappetto Ah, certo Perché No, certo E poi mi sono sfogato un po' A battere le punizioni Sulla macchina di Dal Negro Ma insomma Ma insomma Ma ti sembra una bella cosa Battere le punizioni Sulla macchina di Del Neri Dai E allora? Come allora? Ti pare facile Prendere una smart Da 30 metri? Vabbè Vabbè Volevano i biglietti per la partita Con fiabilanti Io ho detto Non sono stato convocato Ah, non sono stato convocato Eh, al limite Gli ho dato le aste Già E saltano Come a buca Capito? Sì Saltate Ancora è stata comprare i biglietti Vabbè Senti ma Vabbè Poi cosa hai fatto ancora? Niente Ieri mi sono divertito un po' A provare l'alta velocità Cioè? Sulla ferrovia tra Bologna e Milano Ma come? Ho tolto le gomme La mia Ferrari Sì Ho appoggiato la frur sui binari Ah, ok Senza gomme Sì Guagliò Weee Ma non Ma dai Ma non Queste cose non si fanno Sono pericolose Dai E allora? Come allora? Non ci stanno manco gli ingroci Guagliò Eh, ho capito Vero via, scusa Ma tutta dritta A un certo punto Mi sono trovato davanti Mi devi credere Sono cose inaudite per uno Che con la sua frur Ferrari Si mette la sua Sai chi me l'ha data la frur? No Malagò Ah, Malagò Giovanni Malagò Giovanni Malagò Conosciamo Me l'ha data è tre Ah, tre Eh? Si Si Tarra Tarra Ho fatto un'imitazione Eh, si Tu ci senti E voi sono bravo a fare l'imitazione Si Ho vinto ascoltatore Eh, uguale Sono bravo Eh Sono bravo Sono vari sui binari E niente Ho fatto i fani Che c'avevo il pendolino davanti Io ho detto Antonio Cassano Ecco l'altro La Ferrari Ecco l'altro Grazie Grazie.